a questo punto la comunicazione tra le persone quindi il contenuto di quello di cui le persone comunicano è la gestione di questi tre fenomeni quindi lo shop floor management che è fatto in gran parte non solo ma in gran parte di comunicazione il contenuto della comunicazione è esattamente questi tre fenomeni qua quando le persone comunicano si deve vedere la gestione della variabilità di processo degli errori e dei problemi e dei miglioramenti